fra il più radio sono Chiara Nicoletti dall'ottantunesima mostra d'arte cinematografia di Venezia sono felice di dare il bentornato a Tony Serviglio e lo Germano tra i protagonisti di Iddu di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia in concorso benvenuti bentornati grazie allora umanizzare ma non ridicolizzare io penso sempre diciamo sempre delle volte vediamo abbiamo visto negli anni tanti film di mafia ecco per generalizzare tantissimo a parte il valore di questi due registi conosciuto è questa chiave qui questa l'umanizzare queste persone non renderle il cattivo il villan questa divisione che vi ha portato allora bisogna stare attenti perché il termine umanizzare nasconde delle insidie qualcuno può pensare che umanizzare significa renderli buoni no no certo significa con esattezza cercare di raccontare l'umano in tutte le sue sfaccettature l'umano è fatto di cose brutte di cose belle a volte di zone grigie in questo caso la dimensione del ridicolo anche parola su cui bisogna stare attenti perché non vuole essere una scimmiottatura della realtà in chiave farsesca ma l'insensatezza di certe atmosfere l'insensatezza ridicola di certe atmosfere che vengono a crearsi nella vicenda di questo film è tanto più efficace perché rivela immediatamente la dimensione tragica che nasconde la dimensione ridicola di certe vicende narrate in questo film apparentemente ridicola in realtà nasconde una realtà molto tragica che dovrebbe far risuonare nello spettatore una domanda molto semplice ma come è possibile che accadano certe cose con questa modalità e che accadano certe cose che riguardano un'organizzazione criminale che da una vita tiene in scacco una regione e un paese facendolo marciare verso i sentimenti più retrivi e evitando qualsiasi emancipazione sì non lo definirei un film di mafia è un film veramente quasi una commedia umana cioè mette in scena gli esseri umani con le loro fragilità le loro debolezze i loro interessi privati ecco quello che poi fondamentalmente spesso fa cadere le persone in qualsiasi ambiente lavorino in scelte che poi da lontano appaiono fortemente sbagliate è questa ambizione personale questo sentirsi più in diritto degli altri e a cercare scorciatoie per inseguire un bene privatistico personale che arricchisca la propria famiglia il proprio clan a scapito appunto di tutto il resto della collettività questo motore che oggi come dire quasi un modello comportamentale ha prodotto e produce la criminalità organizzata ma produce tutte le aberrazioni di quelle industrie che poi producono la morte come effetto collaterale di ospedali che pensano più a guadagnare che a curare le persone a un modello di società che purtroppo finisce per assomigliare al modello mafioso se non ha dei valori diversi no fatti di condivisione di collettività che ha di regole che garantiscono i diritti per tutti non solo per una classe di privilegiati prima è passato m fio del secolo si parlava di mussolini con luca marinelli abbiamo parlato di voi perché ci sono inevitabilmente eh delle riflessioni che si possono fare per entrambi questi questi percorsi e si è parlato a un certo punto di di ignoranza e di cultura e a me ben venuto in mente il personaggio di di toni che comunque è una persona di cultura nel senso era qualcuno è qualcuno che comunque eh ha avuto accesso a certe cose e nel paradosso per quello che scopriamo nel carteggio addirittura Matteo si era avvicinato a a una cultura al cinema a una cultura classe quindi mi sono chiesta ma non è neanche quello eh forse l'avere accesso il poter capire comprendere certe cose una chiave per bisogna stare anche in questo caso attenti perché insomma bisogna avere responsabilità quando si usano certe parole quando soprattutto attraverso le parole che si dicono si cerca di informare esiste cultura e cultura certo la cultura di Catello è una cultura mediocre e raffazzonata che questo personaggio anche molto squallido utilizza per amministrare le mille maschere che ha l'astuzia l'intelligente a subdola a fini malefici no con una cultura baroccheggiante da professore di liceo di provincia insomma che utilizza il poco che sa per soddisfare dei bisogni per il fatto poi che nella nei covi di Matteo Messina De Naro si è stato trovato i libri di Vargas Liosa non lo fanno diventare immediatamente un premio no bello insomma no certo però io dico un accesso a no come dire secondo me raccontano la complessità della realtà no che si presenta sempre in maniera sorprendente sulla quale occorre riflettere sicuramente queste letture di Matteo Messina De Naro nella solitudine nella sua latitanza hanno influenziato in qualche modo la natura dei pizzini che ha scritto e dall'altra parte quell'altro o quella infarinatura classicheggiante ma insomma di seconda mano ha trovato il modo quello che è interessante che tutto ciò è stato utilizzato per fini dell'uno e dell'altro certo non nobili come i fini a cui noi attribuiamo la funzione della cultura se no facciamo un po' di insomma se no finiamo nei tempi in cui viviamo finiamo poi per dire Umberto Eger uno delinquente nonostante fosse colto cioè diciamo delle stupidaggini non lo so come le cose vengono utilizzate no c'è nel senso evidente che anche noi facciamo gli attori facciamo cinema facciamo cultura viviamo in un ambiente culturale ma chi fa cinema i nostri colleghi chi fa cinema o arte in generale può farla per incassare soldi per fini personali per la propria crescita personale carrieristica e qui incarna un catello diciamo che oppure vuol farla in funzione collettiva mi veniva in mente adesso proprio per collegarci a facili finalmente a Marinelli un attore che è un nostro amico che stimiamo profondamente è stato proprio Benedetto Croce a proposito di cultura alta a mettere in guardia gli italiani su Mussolini e a svelarne tutta la dimensione da saltimbanco che ci aveva e che ha portato il paese in una tragica guerra dove sono morti milioni di italiani che non avevano nessuna intenzione di andare a difendere nessun impero da nessuna parte ed è stato proprio un uomo di rara e vera cultura a dire aprite gli occhi perché ci troviamo di fronte a un saltimbanco che ci porta a finire male ecco tanto per separare se no finisce che poi tutti quanti siccome dicono fanno quattro citazioni se hanno letto tre libri c'è una cultura non è così grazie grazie a tutti grazie Toni Serviglio e Germano in concorso all'ottantonesima mostra d'arte cinematografica di Venezia io sono Chiara Nicoletti questo è Fred da Festival Insider grazie a tutti 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 grazie a tutti